Per lei voglio un super, super, super applauso per Sonia Saku, vieni Soria, più che non mi sento! Il microfono, quello buono, quello porta fortuna, quello giallo e nero di Radio Bruno. Allora, lei porta un brano, regia video, un brano, vediamolo un po', scopriamolo, ovviamente il cosplay aveva già spoilerato, Inuyasha, un cartonemato bellissimo, giapponese, si avventura nell'interpretazione di un brano giapponese. Quindi, Sonia Saku con Dearest, Inuyasha, vai, il palco è tuo. Grazie. Inuyasha, vai, il palco è tuo. 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 Grazie a tutti Grazie